Dinanzi a quasi 500 spettatori assiepati al Filippo Di Tella, il Campo Vasto strappa la qualificazione nella Coppa Italia di Lettanti sul campo di Vasto Girardi. L'inizio è promettente per l'11 Alto Molisano in completo bianco, con la doppia occasione di Iacovetta di testa e Iacullo subito dopo. Il portiere ospite è esposito e graziato a porta spalancata. Quattro giri di lancette più tardi, i rosso-blu si fanno vedere la prima volta su calcio piazzato. L'attaccante Corvino stampa la sfera sulla traversa, difesa da Nappo. Attorno alla mezz'ora il solito ripa e castiga gli avversari da distanza ravvicinata. Il traversone da destra di Maldonado è perfetto nel cuore dell'area, ma non è esente da colpe Nappo nell'uscita aerea. Esultano dagli spalti numerosi tifosi giunti dal capoluogo di Regione. Il vasto Girardi alza la testa dopo lo 0-1 nel breve volgere di 60 secondi e con Salatino spiora il legno. Prima del rientro negli spogliatoi ancora Ripa, coglie la traversa e sulla ribattuta la mette nel sacco. Tutto inutile per posizione irregolare dello stesso Bomber. Al cambio di campo i lupi si fanno ammirare per il destro a giro del regista Maldonado, determinante la smanacciata del portiere Nappo sul legno che evita il raddoppio. La seconda marcatura arriva dopo una leggerezza di Acunzo che corregge con un braccio. Una rimessa laterale lunga all'interno dell'area. Iurino ben appostato non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Corvino non dà scampo a Nappo 2-0 per il campo basso al minuto 18. Sulle ali dell'entusiasmo e con il risultato in proprio favore si aprono gli spazi per l'11 viaggiante. Corvino di Nardo e appoggio per il sinistro del neo entrato Rasi che sfiora la terza marcatura. Si esalta Nappo e respinge Tris che giunge puntuale quasi allo scadere con Lombari che approfitta di un errore dell'estremo di casa in dribbling fuori dalla sua porta e gonfia la rete per il definitivo 3-0. A rientro negli spogliatoi gli animi dalle panchine si scaldano ma il risultato non fa una piega con un capo basso cinico e sornione che getta le basi per una stagione da protagonista.